Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e se c'è una delle cose che più mi piace nella vita è cambiare opinione su qualcosa perché mi stupisce in positivo ma no, non è il caso di Animali Fantastici come forse qualcuno di voi ricorda da vari video, soprattutto quello dove ne parlo sulla Rowling non è incentrato su Animali Fantastici ma dico chiaramente che a me questa operazione già non convince il primo non mi era piaciuto cioè è un'operazione carina ma non rilevante secondo me il secondo mentre è riuscito a smentire alcune dei perni della mia critica e sono sincera perché sono onesta e non voglio trincerarmi dietro opinioni stupide ma dall'altro per me è un big no ovviamente lo scoppio di questo video non è raccontarvi la verità assoluta questo è il mio punto di vista se voi siete completamente in disaccordo è normale, ci sta io non ho la verità in tasca e non penso di avere l'autorità per dirlo e penso sia abbastanza normale quindi se siete in disaccordo con quello che dirò dopo basta che vi manteniate civili nei commenti perché ci sta a vederle diversamente alcune cose ci sta non essere d'accordo su alcuni punti di vista l'importante è essere rispettosi delle opinioni altrue io accetto benissimo che a voi invece sia piaciuto e anzi sono felice che a voi questa operazione abbia convinto molto io non sono così convinta e penso di avere tutto il diritto di dirla vi spiego perché questa sarà una recensione suddivisa in una parte spoiler free abbastanza lunga e poi uno sclero finale super spoiler quindi quella parte lì guardatela solo dopo aver visto il film uno per sclerare con me due perché probabilmente ovviamente vi rivelerai troppe cose che non volete sapere prima di vederlo quindi direi che di solito per le mie recensioni suddivido la parte del positivo da quella negativa in questo caso alcune cose si mescoleranno perché è difficile tenerle troppo separate però vi parlo subito invece delle cose che a me sono piaciute e anche molto di Fantastic Beasts 2 ovvero i crimini di Grindelwald il primo è sicuramente l'aspetto migliore di tutto il film ovvero l'aspetto cinematografico a mio parere la parte visiva, la fotografia e tutto ciò che ha a che fare con gli effetti speciali che sono notevolmente migliorati anche solo rispetto al precedente sono la parte più godibile del film e posso dirvi con certezza che questo è il film legato al mondo di Harry Potter più bello in assoluto è veramente bellissimo, è godibilissimo il cinema è un piacere vederlo sul grande schermo perché ha una definizione tale dei tagli cinematografici super belli che io ho amato sul montaggio so che ho letto qualche critica ma secondo me dipende da una cosa che vi racconterò dopo è vero il montaggio non è brillante ma secondo me hanno fatto il meglio che potevano fare tutto il resto secondo me è meraviglioso davvero è bellissimo poterlo vedere sul grande schermo è molto coinvolgente dal punto di vista visivo e trovo che abbiano fatto un lavoro eccellente davvero insomma quindi questo è soprattutto un film visuale è un film visivo dove quello che vi arriva ovviamente in primis è l'impatto visivo è qualcosa di veramente meraviglioso altra cosa che se... vabbè, cioè questo non sarebbe neanche da mettere in una recensione me ne rendo conto perché è veramente poco professionale però per me la scelta di Zoe Kravitz non so, per me lei è la più buona del mondo è bellissima è anche davvero molto brava e quindi io ho adorato vederla sullo schermo parleremo di altre cose più tardi ma a livello proprio estetico, visivo e di recitazione secondo me lei è veramente bravissima è stato un piacere oltre a lei secondo me spiccano tantissimo in questo film altri due attori uno è sicuramente Jude Law Jude Law ha capito secondo me molto bene qual è l'impronta di Silente sì, anche se risulta un po' sbruffone però questo è dato molto dall'età secondo me qui troviamo un Silente di mezza età quindi ancora quella che potrebbe considerare benissimo la sua giovinezza e secondo me è davvero molto bravo nell'avere quell'atteggiamento del mai esporsi troppo del non raccontare mai troppo dell'avere mille piani che non ti svelerà mai Silente è un personaggio davvero molto chiuso perché ha probabilmente una capacità e una storia alle spalle che sono difficili anche solo da raccontare a tutti noi l'abbiamo sempre visto come mentore e in questo film vediamo un attore che non lo è ancora del tutto non è un personaggio che è così delineato come mentore come il grande diciamo colui che ti guida il merlino dei tempi moderni potremmo assimilare Silente a questa figura però è già amatissimo dagli studenti ed è già considerato il più grande mago di tutti i tempi e quindi insomma Jude Law secondo me fa qualcosa di davvero molto difficile e ne esce davvero bene ha questa capacità di dire tanto soprattutto con la mimica facciale con lo sguardo senza parlare troppo che secondo me è uno dei tratti caratteristici di Silente c'è solo un problemino che è anche qui ne parliamo più tardi altro punto a favore secondo me e che però è anche un po' lo sfavore di questo film è la questione degli animali gli animali fantastici d'altronde la serie si chiama Animali Fantastici poteva benissimo usarli solo e unicamente come oggetti di arredamento quanto sono carini quanto sono bellini ed effettivamente spesso rischia rischia di cadere in questo tranello ma invece secondo me l'uso degli animali fantastici in questo caso è molto funzionale alla storia sono degli strumenti che fanno andare avanti la storia sono agenti loro stessi proprio delle spalle di Newt sono i suoi aiutanti sono qualcuno che partecipa attivamente alla storia non in maniera consapevole sempre però sicuramente non sono diciamo solo lì per arredamento anche se di altre cose parleremo dopo come sempre tu sarà tu non parleremo dopo perché come avrete capito io non ho proprio adorato e colto tutto di questo film l'altro aspetto secondo me interessante legato sempre agli animali è che davvero noi vediamo forse per la prima volta in un film che sarà sicuramente di enorme successo e che ha un franchising molto popolare un messaggio davvero fortemente antispecista fortemente animalista perché Newt non ha questa distinzione tra razze tra esseri umani e animali è molto legato a loro li capisce cerca di capirli si mette dal loro punto di vista e cerca proprio di inglobarli nel suo mondo e capire entrando nel loro li difenderà a spada tratti è sicuramente una figura che in un franchising così popolare così enorme ha questo impatto molto animalista secondo me super lodevole che non si vede spessissimo in maniera anche così proprio tangibile perché mentre spesso viene raccontata questa cosa e mai mostrata la Rowling in questo script ce lo fa vedere perché lei era soprattutto brava nel fare vedere le cose più che raccontarle basta mi devo trattenere e qui io invece vengo al punto che secondo me è proprio quello che io ho criticato maggiormente di questo franchising ovvero la scelta di Johnny Depp ma una cosa che davvero sono sincera quando lo dico tornare sui miei passi cambiare idea perché qualcosa mi ha stupito per me è sempre positivo significa che c'è qualcosa che mi avvicina a questo aspetto e devo dire che Johnny Depp per quanto io continuo a sostenere che sia una scelta sia indelicata che è irrispettosa e soprattutto non proprio la più felice soprattutto perché penso che ci fossero attori molto più simili a Jamie Campbell Bowen vedi Jonathan Rhys-Myers che ha 20 anni più di lui ed è il suo specchio e che quindi non lo trovo il più corretto però devo dire che secondo me Johnny Depp ha l'interpretazione migliore di tutto il film è il più bravo all'interno del film è veramente un'impersonificazione molto giusta del personaggio di Grindelwald è un po' ciò che viene prima di Voldemort e se mentre nel cattivo che noi conosciamo molto bene cioè Voldemort è mostrificato ha perso tutta la sua natura umana incute terrore ciò che cerca è solamente il terrore ciò che cerca è quello di assoggettare chiunque anche i propri alleati imponendo il suo potere condividendo solo le briciole con loro e soprattutto dimostrandosi il più feroce il più forte il più perfido perché questa è la sua natura perché lui ha una sete di potere come pochi altri per un motivo o per un altro che sia perché secondo me anche lui ha le sue motivazioni non condivisibili chiaramente però è quel tipo di cattivo che ha perso tutto il suo attaccamento al mondo umano invece Grindelwald è quel cattivo che è molto più sfaccettato perché è quel tipo di personaggio che deve innanzitutto convincere deve affascinare rappresenta l'ascesa è un parallelismo molto forte con l'ascesa del totalitarismo in Europa sia in Italia che all'estero sicuramente ha molti più riferimenti col nazismo eccetera però questa sua capacità di persuasione questo suo colpire nel vivo le debolezze umane lo rende un personaggio molto interessante secondo me e che Johnny Depp è stato davvero molto molto bravo a sostenere e glielo devo questo perché io sono la prima che l'ha criticato e la prima che ha cambiato idea vedendolo sullo schermo è stato proprio il personaggio che ho apprezzato di più all'interno della serie avrei evitato la lenta a contatto perché il mio problema con le lenti a contatto è che le lenti a contatto hanno la pupilla fissa e avere per tutto il film la pupilla fissa si nota questo proprio no a parte questo secondo me è un personaggio davvero ottimo dal punto di vista dell'interpretazione e anche secondo me molto affascinante come personaggio che ha tanto potenziale e da qui mi attacco però ha tutti gli aspetti negativi che sono tanti vi premetto infatti secondo me Grindelwald è proprio il personaggio che peggio viene sfruttato all'interno della storia ricordiamoci che questo questo franchising innanzitutto si chiama Fantastic Beasts e gli animali sono davvero molto accessorici sono perché ci devono essere e aiutano effettivamente Newt nel compiere le sue missioni come potrete vedere al cinema eccetera però rimangono un qualcosa di non del tutto rilevante non sono parte integrante parte davvero attiva della storia la storia non si basa su di loro banalmente Harry Potter si chiama Harry Potter perché è il nostro protagonista se si fosse chiamato il Quidditch e poi parlava di Harry Potter a tutti ci avrebbe fatto molto strano in questo caso il pretesto sono gli animali e quindi già qua c'è il primo distacco tra quello che il titolo ti dice di questa saga e quello che in realtà vedi il primo volume effettivamente aveva grande parte della sua storia incentrata sugli animali erano molto presenti ed erano molto protagonisti in questo noi vediamo tutt'altro è tutta un'altra cosa e gli animali sono solo qualcosa con cui ha a che fare Newt qualcosa che aiuta Newt ma poi sono fermi lì e il problema secondario che il sottotitolo di questa storia è i crimini di Grindelwald noi non abbiamo avuto grande conoscenza di questo personaggio in precedenza le uniche e poche cose che sappiamo le sappiamo dai doni della morte e mentre ovviamente nel libro qualcosina in più ci viene detto e conosciamo conosciamo la sua scesa ciò che è successo eccetera eccetera anche nel dettaglio perché comunque nei doni della morte viene affrontata spesso la storia di Grindelwald eppure nei film è proprio solo è unicamente accennata non c'è un vero e proprio approfondimento su questo personaggio e devo essere sincera quando io avevo sentito annunciare il titolo i crimini di Grindelwald io mi aspettavo che avremmo conosciuto molto meglio questo personaggio avremmo visto anche il suo punto di vista nel dettaglio avremmo capito che cosa ha fatto che cosa è successo da un lato abbiamo la parte della salita al potere del totalitarismo rappresentato un po' da lui e dai suoi uomini che secondo me è gestita in maniera eccellente è proprio una scena di quelle che fanno venire i brividi soprattutto per i dialoghi che ci sono in quella scena per il metodo che viene usato e per tutta una serie di dinamiche che non vi posso raccontare in questo momento ma ne parlerò dopo nella parte spoiler se no vi rovinate tutto e quello viene gestito bene ma tutta la storia dei crimini di Grindelwald ciò che ha fatto Grindelwald la storia di Grindelwald e la parte che dovrebbe essere affidata a Grindelwald è molto sacrificata c'è troppo poco spazio per questo personaggio e questo è dato dall'errore secondo me principale di tutto questo film ovvero c'è troppa roba cioè è un film che viene gestito male perché ci sono un sacco di storyline seguiamo tantissimi personaggi che sono in punti diversi già del globo e quindi già questo è difficile ci sono troppi personaggi nuovi che entrano e creano l'ennesima storyline su storyline e è difficile da gestire io sono convinta che questo sarebbe stato un libro perfetto perché la Rowling ha questo tipo di impostazione dove come abbiamo visto in tutta la saga di Harry Potter dove ci sono tante trame sotto trame che si uniscono e se mentre nei film era riuscito un po' a semplificarli perché alla fine noi seguiamo sempre il nucleo centrale e ciò che ruota attorno a loro in questo noi non abbiamo un vero e proprio nucleo così forte centrale ci manca noi seguiamo tante storie tanti punti di vista e cinematograficamente questa dispersione perde tantissimo di efficacia io vi dico che quando è suonato l'intervallo quando si sono accese le luci ho guardato l'orario e mi sembrava una follia perché non era successo nulla fino a quel momento perché c'erano avevano introdotto solo tutte le storie è pesantissimo questo fattore è veramente difficile da seguire e per introdurre anche tutti questi benedetti personaggi perde tempo ci sono scene inutili la scena dove entrano in azione Queenie e Jacob dura un quarto d'ora ma è un quarto d'ora che non dice nulla sulla storia è solo puro fanservice puro comic relief e tra l'altro snatura davvero tanto il personaggio di Queenie lì ci arrivo tra poco davvero secondo me è veramente troppa carne al fuoco troppe idee e confusionare perché confondono soprattutto lo spettatore io avrei tagliato e semplificato è interessante vedere alcuni nuovi personaggi che però non hanno una vera e propria evoluzione Nagini vi dico per me è un personaggio totalmente inutile per come è stato introdotto magari diventerà rilevante nei prossimi ma noi abbiamo alcune discussioni attorno a Nagini che riguardano magari più il mondo animale la schiavitù queste cose ma è finita anche lì poi viene snaturato personaggio come Queenie non la ritroviamo con quella brillantezza e quella anche freschezza che ci aveva dato nel primo film e poi Tina Tina secondo me è un personaggio che è funzionale quasi a Newt in questo secondo episodio quando dovrebbe avere molto più spazio perché è un personaggio interessante è una donna che se ne frega un auror cavolo spacca Tina eppure è un po' sacrificata e poi abbiamo l'Italestrange e il fratello di Newt e poi è una trama che ha davvero troppi spostamenti mi ha ricordato la saga della Aviard perché noi passiamo da un punto all'altro continuamente perché la storia deve andare continuamente avanti da un punto di vista a un altro tanti luoghi troppi luoghi sinceramente quando potevano partire dalla me concentrarsi su un punto è dispersivo davvero troppo dispersivo fa un pacciugo clamoroso secondo me la Rowling in questa sceneggiatura io sostengo fortemente che questo sarebbe stato un libro pazzesco sarebbe stato un libro bellissimo una serie un libro quello che volete dal punto di vista cinematografico perde troppo perde troppa forza confonde è ridondante cioè non ne avevamo bisogno tanto che la sensazione alla fine è di una grandissima introduzione mentre quello che si era fatto sia nel primo Fantastic Beasts se non per qualche elemento che soprattutto in Harry Potter è che alla fine dell'anno quindi alla fine del film alla fine del libro la storia in principale si era conclusa poi c'è un filone che li lega tutti e sette ed è quello che ti fa continuare però tu avevi una storia che si apriva e si chiudeva qua sembra una grandissima introduzione a tante cose un film accessorio cioè un film di passaggio questo è proprio l'aspetto che per me penalizza il film come poche altre cose e anche due aspetti che secondo me erano stati punti forti sia del primo Fantastic Beasts ma soprattutto di Harry Potter sono le ambientazioni e i costumi in questo caso secondo me i costumi sono troppo simili a quelli babbani che non hanno alcun tipo di distinzione l'unico che effettivamente sembra vestito da mago è Newt e questa cosa io non l'ho molto colta perché c'è una grande verità che i babbani si distinguono dai maghi anche per l'abbigliamento addirittura mi ricordo che Ron faceva fatica a indossare i jeans e non sapeva cosa fossero i jeans vedere questo e vedere come fossero così uniformati mi ha creato meno distinzione tra mondo magico e mondo umano e infatti anche le ambientazioni spesso non sono nitide non sono chiare non si distingue la Parigi babbana dalla Parigi magica ci sono troppi pochi elementi che ti caratterizzano una o l'altra cioè non è come Londra e Diagonale che sono due mondi separati due mondi così distinti e soprattutto c'è anche confusione perché in alcune scene io non mi ero neanche accorta che ci fossimo spostati sulla Parigi babbana a livello di ambientazioni io le ho trovate davvero molto povere perché capisco che siamo in un dopoguerra anche per il mondo dei maghi in questo istante Parigi è stata ricostruita in parte eccetera ma il ministero della magia francese è veramente molto basico secondo me è ok la moda però troppo troppo essenziale troppe poche caratterizzazioni cioè se pensate al ministero della magia britannico e a quello francese c'è una distinzione pazzesca non lo so l'ho trovato veramente impoverito da questo lato che secondo me era forse una delle cose più interessanti del mondo di Harry Potter film perché riusciva a ricreare quella magia che ritrovavi nelle parole dei libri tornando al discorso di prima invece secondo me una grossa delusione sono anche alcuni personaggi non tutti ma molti lo sono sicuramente il primo rimane secondo me il protagonista della nostra storia ovvero Newt Scamander allora per me Eddie Redmayne non è uno di quegli attori per cui io stravedo perché mi sembra sempre molto uguale a se stesso e interpretare Newt che già è difficile perché sta interpretando un personaggio molto timido molto sulle sue molto strambo originale eccetera con il suo modo di fare che sembra più allucinato che altro o da un'altra parte completamente può essere riuscito in qualche modo perché lui riesce effettivamente a creare questo personaggio un po' fuori contesto eccetera però secondo me risulta estremamente debole estremamente poco efficace non che non si possano rappresentare dei personaggi timidi introversi nel loro mondo anzi penso che tante storie ci abbiano insegnato proprio che non dobbiamo solo vedere personaggi forti ma anche Harry stesso di base è una persona molto timida che non ha mai avuto grandi legami ma che praticamente sboccia appena entra in contatto con altre persone che diventano suoi amici eccetera come vediamo in Harry Potter smetterò anche di fare analogie con Harry Potter perché non può farmi del male a ogni passo detto ciò io fatico a capire questo nucleo fatico a capire come Newt sia un personaggio così forte anche se ho apprezzato molto una cosa che è l'inizio e la fine della storia di Newt in questo film cioè la sua affermazione iniziale la sua affermazione finale le ho apprezzate perché sono cose che apprezzo personalmente per storia personale eccetera però manca qualcosa bisogna che Eddie Redmayne riesca a rappresentare questo personaggio strambo legato anche al mondo degli Scamandro quindi anche alla famiglia di Luna Lovegood eccetera in maniera un po' più forte ti prego fallo perché se no non ha senso continuare ad averti come protagonista anche perché Newt rimane l'unico legame col tema fondamentale di sta serie ovvero gli animali fantastici e se lui non riesce a bucare lo schermo non so sono sincera poi è vero che non è più il personaggio fondamentale però allora non c'è un protagonista ora non lo è stato questa volta Grindelwald il prossimo film sarà su Silente sarà Silente quindi il prossimo protagonista o ancora avremo una storia molto democratica suddivisa per tanti personaggi dove nulla è il punto centrale della narrazione non lo so non lo so e questo mi dispiace l'altro grossissimo dispiacere perché se c'è una cosa che io ho apprezzato di Fantastic Beasts erano Queenie e Jacob perché erano il comic relief giusto erano la parte comica ma non solo avevano una propria storia amavo questo modo di fare di Queenie che era sopra le righe ma era molto dentro il suo personaggio ed è rimasta fedele a se stessa dall'inizio alla fine in questo film Queenie si perde e se a un certo punto vedrete una scena che secondo me narra molto dello smarrimento di Queenie e posso capire quel tipo di smarrimento è una scena in mezzo alla folla c'è confusione e lì ho capito il personaggio ma inizia con una Queenie che fa una cosa che io non mi sarei mai aspettata finisce con un'azione che sinceramente io da Queenie non me la sarei mai aspettata e nessuno che ha la forza di reagire in maniera un po' convinta a questo suo grande cambiamento è un po' il tema portante del film succedono cose boh reazione facciale zero reazione poco e niente da Jacob mi sarei aspettata molto di più e mi dispiace perché era uno dei pochi personaggi che io amavo molto mi piaceva molto come mi piace Tina ecco Tina secondo me è molto sacrificata anche lei come lo sono tutti gli altri in compenso una grande introduzione di questo film è la telenovela sudamericana perché se pensavate che fosse una storia di avventura con qualche pizzichino di temi così qua proprio non lo so sembra che tutti debbano innanzitutto accoppiarsi con tutti cosa che io proprio detesto dal profondo e non riesco mai a giustificare non è che tutti si devono accoppiare vanno bene anche da soli l'altro problema è che poi ci sono queste storie familiari tragiche tutto che è tra tutto è veramente portato all'eccesso ci sono troppi rimorsi amorosi del passato che ma non solo familiari che si è ripercuotato è veramente molto 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 pesante da questo punto di vista io davvero stavo pensando a un certo punto che fosse una telenovela perché non si spiega quali sostanze abbia assunto la Rowling in questo caso quando scriveva lo script perché non ne avevamo bisogno cioè già avevamo abbastanza carne al fuoco ci mancavano anche i drammoni uno due no su tutti i personaggi è veramente stato molto pesante da quel punto di vista cioè e perdendosi in tutte queste cose secondo me manca una componente fondamentale di questo film ovvero manca la percezione del pericolo già come vi ho detto prima abbiamo un cattivo che viene sacrificato del quale conosciamo nulla cioè non conosciamo assolutamente nulla e che ha pochissimi momenti di introspezione che cioè purtroppo noi ne sentiamo la necessità noi sentiamo la necessità di questi momenti perché Grindelwald è un personaggio che non è molto esplorato e non lo è mai stato nel film precedente è la sorpresa che emerge ma noi non capiamo perché lì non sappiamo molto se non che è ricercato ed è su tutti i giornali va bene ora raccontami il suo punto di vista fammi capire perché è così pericoloso fammi capire perché in questo momento è una minaccia che incombe non lo so io non riuscivo a capire la percezione del pericolo non riuscivo a capire perché fossero tutti estremamente preoccupati perché non c'è un momento di singola tensione vediamo gesto atroci per l'amor del cielo sono d'accordo ma sanno già dov'è trovano cioè riescono già subito a fare tutto molto facile tutto molto prevedibile e mancando anche un po' di narrazione di percorso del personaggio secondo me ovviamente questa tensione questa paura per lo spettatore è difficile da cogliere poi davvero cioè secondo me qua c'è davvero troppo fanservice troppo fanservice non ne avevamo bisogno cioè se allora io capisco il senso nostalgico di ritornare in questi mondi ci sono la prima che li guarda perché è super riconoscente Harry Potter lo dico sempre è la mia serie preferita la leggo tutti gli anni da vent'anni ragazzi c'è la sua memoria ok sua memoria sia la pietra filosofale che il prigioniere di Askeban cioè ve lo dico da una persona che ha praticamente una conoscenza filologica di quest'opera ok quindi cioè ve lo dico da persona che è molto riconoscente alla Rowling per quest'opera sono meno riconoscente quando succedono queste operazioni che per me sono davvero molto irrilevanti e buttare lì tantissimi sassolini fanservice a una certa a me dava molto fastidio perché o ti distacchi e mi dai quei 3-4 elementi che mi richiamano tanto siamo nel mondo magico io le conosco quelle cose oppure tu crei un legame molto più forte col passato non mi dai solo le cose che mi aspetto di vedere è un discorso complesso che è sicuramente difficile da percepire ma ma no io ve lo giuro che mi ha dato molto molto fastidio e a proposito di fanservice l'altro errore di questa serie è che non riesce a distaccarsi in maniera decisa dalle dinamiche di Harry Potter ci sono troppe dinamiche che si sovrappongono il nucleo centrale di tre persone c'è un ovviamente dove c'è la spalla comica quella intelligente determinata e il nostro eroe che è un po' improbabile un po' capitato però insomma c'è la questione dell'amore perduto che ritorna c'è la dinamica del signore unico scuro che raccoglie seguaci che in questo caso è gestita meglio per me è gestita molto diversamente rispetto alle altre dinamiche replicate perché si distingue almeno come personaggio e come storia del personaggio però davvero iniziavo a notare troppe dinamiche che cioè per chi conosce molto bene Harry Potter non sono una novità e forse anche questo senso di mancata novità che non so mi fa rimanere dubbiosa allora la sensazione è un po' quella per farvi capire di episodio 7 ovvero che la storyline di episodio 4 e quella di episodio 7 sono molto simili le dinamiche sono le stesse mega fan service e quindi o l'hai apprezzato per il senso di nostalgie e comunque continui a pensare che sei meglio episodio 4 o ti ha dato molto fastidio e la sensazione per me è esattamente quella poi vi dico una cosa ci sono tanti errori legati al sistema magico e all'uso della magia che secondo me erano impropri erano non del tutto lucidi e poi io ve lo dico questo è spoiler ma tanto lo avete visto nel trailer quell'ingresso a Hogwarts con apparizione dovranno giustificarlo sul mio cadavere perché non l'hanno giustificato quindi no continua a essere un grosso no Albu Silente spiega a tutti che non ci si materializza ad Hogwarts e io non penso che il primo caso di materializzazione ad Hogwarts problematica sia accaduto nel 1927 io non ci credo neanche se mi calpessa una mandria di buoi dai per favore è proprio impossibile anche perché poi si era detto che l'avevano messo i fondatori per proteggere gli studenti e l'unico che si può materializzare dentro è il preside ok su queste cose sono disattenzioni poi secondo me non è neanche colpa della Rowling è un problema di regia che magari non se ne accorta hanno girato la scena lì e se ne sono accorta in fase di montaggio il danno era fatto per l'amore io glielo giustifico però sono piccole disattenzioni che o mi crea un legame forte con quello che è venuto prima o ti distacchi da questo mondo cioè perché poi i pignoli come me ti presentano il conto io mi rendo conto che non sia rilevante per tutti per me sono cose che distraggono sono cose che mi mi confondono sono cose che non mi fanno rimanere concentrata altro punto che sarà difficile rendere non spoiler è la questione dell'omosessualità è uno degli argomenti che io ho criticato più fortemente e se da un lato è riuscita in qualche modo a stupirmi in positivo dall'altro l'ho trovato disastroso per due motivi cerco di essere spoiler free in modo che non possiate capire Silente nella sua sfera pubblica fa un'esternazione dove è quasi esplicito e io l'ho trovata fuori luogo fuori contesto detta degli estranei detta da Silente in quel momento che io sinceramente non trovo giusta nel personaggio non trovo coerente anche perché se l'omosessualità è un tabù non l'avrei detto in quel modo soprattutto con quella nonchalanza in quella situazione lì no dall'altro invece il problema è nella sfera privata perché nella sfera privata c'è una scena estremamente ambigua e chi vuol vedere quello che vuole vedere ci vedrà quello gli altri vedranno un'amicizia vedranno un gesto un po' strano un po' che non ha niente non è né carne né pesce e nella sfera privata ecco perché se nella sfera pubblica io capisco che non ci sia questa esplicitazione del proprio orientamento sessuale che trovo anche giusto corretto penso che sia quasi normale visto che è una società super bigotta e repressa che magari ti giudicherebbe negativamente ti caccia da Howard cioè per salvaguardare siamo realisti se ti devi salvaguardare non espliciti il tuo orientamento sessuale come ora se rischi di prendere le botte magari stai un po' tranquillo cioè prendetela dal punto di vista non è che si sto dicendo che bisogna reprimere queste cose sto dicendo che se la percezione è quella di pericolo se la percezione è quella di non accettazione capisco chi sia un po' più timido nell'esprimere il proprio orientamento sessuale dall'altro però nella sfera privata dove non c'è nessuno sei tu che dialoghi con te stesso tu che affronti il tuo passato quello è troppo 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 debole quello che succede è troppo ambiguo aperto ad interpretazione ricordatevi che chi conosce l'omosessualità e ne ha esperienza non avrà problemi a fare il collegamento anche se ovviamente è un collegamento che non è così esplicito pensate invece a a chi non ha contatti col mondo lgbt o non vuole averli che vede per l'ennesima volta non normalizzata una situazione dove anche un personaggio come Silente che è ammirato da tutti è il mago più potente che esista che potrebbe dirti e farti vedere quanto è normale quanto non c'è niente di strano quanto sia una cosa naturale l'omosessualità e l'amare una persona dello stesso sesso senza che ci sia nulla di mezzo quanto potrebbe aver fatto di bene per la normalizzazione dell'omosessualità e invece ancora una volta è tutto accennato è tutto interpretabile mentre prima ti sei giocato una battuta che secondo me era troppo fuori luogo diciamo che sono delusa da questo piacevolmente colpita perché c'è stata questa prova di esternazione male 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 però non so come dire poi io capisco che qua ci saranno di mezzo famiglie bigotte produttori che avranno rotto le balle quindi ok ciò non toglie che non sono soddisfatta di questo aspetto niente io direi che la parte spoiler free finisce qua se volete vedere la prossima parte dove io blattererò cioè sarà un flusso di coscienza eh ragazzi preparatevi perché mi sono segnata delle cose e quindi insomma sarà veramente flusso di coscienza io penso di avere detto tantissime cose su questo film voglio sapere la vostra opinione appena lo vedete appena vedete la seconda parte mi raccomando se non avete visto Fantastic Beasts interrompeteci vediamo appena lo riuscite a vedere passo invece alla parte super spoiler inizio la parte super spoiler proprio riagganciandomi all'argomento dell'omosessualità perché ci tenevo un attimo a spiegare però praticamente qua nella scena dove troviamo Dumbledore Silente Silente che parla con gli inviati del ministero che lo minacciano e gli chiedono e lo supplicano di dargli una mano di combattere Grindelwald e lui non può dire perché ecco non dice perché quando gli dicono che erano sanno tutti che erano come fratelli lui dice eravamo anche molto di più io davvero non mi sembrava né nel personaggio con un'esternazione così quasi sbruffone in un momento del genere soprattutto fuori contesto perché ricordiamoci non era molto accettata l'omosessualità e dirlo a un ministro era anche un po' strano soprattutto in quella situazione Silente che non si espone mai con chi non conosce bene con tutte le persone con cui non ha grande confidenza che non ritiene vicine a lui e poi però nella sfera privata quando è davanti allo specchio e rivede questa scena quando si toccano le mani con questo tipo batti 5 questa scena non so io ero allibita io avrei spinto lì cioè lì anche una tenerezza un qualcosa che mi avesse fatto capire che ci sia questo pathos perché Silente è evidente che soffre tanto per quello che è stato e quello che invece è ora la situazione però fammi capire perché perché secondo me aggiunge ulteriormente pathos cioè già sembra un dramma tra due fratelli che hanno un destino chiaramente fratricida davanti a loro però dall'altro è qualcosa di più qualcosa che addirittura sono due amanti che ora sono in guerra non lo so dubbiosissima su questo parto dagli appunti perché perché ho veramente scritto un sacco di flusso di coscienza mentre stavo al cinema per la gioia di chiunque mi stesse vicino e praticamente una delle prime cose secondo me problematiche che non ho ben capito è quando all'inizio proprio Grindelwald sale sulla carrozza blindata per essere trasferito è seguito da un unico Auror cioè il criminale più potente più temuto che tra l'altro con quel gioco di sguardi secondo me cioè era subito sgamabile che c'era qualcosa sotto e viene seguito da un Auror cavolo ma mandaci una squadra ma immaginatemi ora quando trasferiscono un mafioso ci sono plotoni di forze dell'ordine cioè non è realistico anche se c'è la carrozza super blindata no parlando invece di Queenie che è l'altro personaggio che ho trovato estremamente problematico è la scena dove lei ovviamente giunge in Inghilterra e ha illuso con un incantesimo Jacob che è sotto pozione amorosa e che quindi la vuole spodare per quello secondo me è totalmente fuori contesto capisco le difficoltà le problematiche ma una persona risoluta e che vede sempre il lato positivo nelle situazioni anche nelle più drammatiche come Queenie è un personaggio così buono come Jacob che si è affezionato tantissimo a lei e a tutto ciò che la circonda ha un rispetto enorme del mondo dei maghi li guarda proprio con gli occhi di chi è affascinato allo stesso tempo sa che non può farne parte ma vuole comunque rendersi utile perché questo è il personaggio di Jacob secondo me è che è profondamente buono e spinto da ottimi sentimenti vedere quello mi ha stranito subito e passando alla scena a Parigi quando lei ha quella specie di attacco di panico perché è assimilabile a un attacco di panico è smarrita ha paura è frastornata perché non trova la sorella non trova Jacob e si trova in mezzo alla folla dove sente solo delle voci quella è l'unica scena dove io l'ho un po' compresa per il resto sia in casa di Grindelwald sia alla fine non ho capito sinceramente non ho proprio capito questa sua trasformazione quindi è una persona molto leggera però non l'ho mai trovata stupida ha quel tipo di frivolezza magari che rende tutto molto leggero ma è la persona che intanto ha cercato di capire il dolore di Newt è molto sveglia legge nel pensiero insomma sono tutte cose che rendono strano sicuramente alla fine è vittima di un incantesimo c'è qualcosa sotto c'è sicuramente però l'ho trovata proprio fuori fuoco e aver visto la scena iniziale dove lei e Jacob vengono introdotti che dura davvero un sacco per una litigata d'amore dove lei lo ha illuso tra l'altro per portarlo lì ed è proprio a caso lo avrei evitato cioè io non ho riconosciuto questo personaggio sinceramente ha portato via per quella scena introduttiva iniziale che poteva risolversi facendo piombare Jacob lì dicendo io e Quini abbiamo litigato e lei è scappata a Parigi aiutami a trovarla sarebbe stata una risoluzione che portava via un minuto del film e dava spazio a tante altre scene detto questo invece c'è il mio appunto troppe scene di spostamento sembra la Eibiard comunque Maledictus questione del Maledictus ovvero di Nagini Nagini oltre ad essere buonissima anche lei trovo che abbia troppo poco spazio ci viene introdotto questo personaggio come spalla di Jacob e il fatto che i Maledictus sappiamo che prima o poi non potranno più ritrasformarsi in esseri umani perché appunto hanno subito una maledizione potremmo dire e qua mi sorge l'ennesimo commento da super fan spigolosa di quelle che rompono un po' le balle quando Piton stava spiegando il lupo Mannaro spiegando la differenza tra gli Animorfo Magus gli Animagus e tutte le specie che invece si trasformano perché non ha nominato il Maledictus il Maledictus è esattamente l'esempio che io avrei fatto nella storia perché stiamo parlando di un personaggio che può trasformarsi quindi come un Animagus però dall'altro lato ha una maledizione che prima o poi glielo impedirà cavolo ma sarebbe stato tipo il terzo nome da fare in quella lezione molto prima di tanti altri quindi se ce l'aveva in testa da vent'anni perché non l'aveva messo prima poi perché non se ne accenna mai e Silente che è vicino a Nagini alla fine non sa nulla di Nagini non collega che Nagini e Nagini quella che si trova di fianco sono la stessa cosa questo mi è stato molto strano e poi problematica fondamentale di Lita con tutto il bene a parte la sua telenovela sfamiliare che è pesantissima a un certo punto no anche tu sei mio fratello tu sei mio fratello anche tu no tu non lo sei perché io l'ho ucciso e saga familiare cioè mamma mia troppo seriamente anche se il è strange Newt e Lita sono la copia spiaccicata di Severus e Lily ok che Severus diventa un personaggio non proprio apprezzabile da tutti anche se per molti me compreso un personaggio molto sfaccettato che io ho apprezzato proprio non per l'essere un eroe e basta c'è un personaggio che è complessissimo è cattivissimo ma è anche molto buono insomma a me piace la sua complessità quella gliela riconosco tantissimo e Newt invece non è ovviamente finito come lui però è esattamente la stessa storia hanno passato tempo insieme erano sempre insieme lui ha coperto lei addirittura in teoria Newt è stato cacciato da Hogwarts o comunque è stato penalizzato da Hogwarts proprio per colpa di Lita e io ho trovato poi Lita è finita col fratello di Newt che qua proprio cringe e proprio la questione di Lita viene risolta in fretta ed è un personaggio che viene sprecato abbiamo seguito una storia che a un certo punto andiamo nella tomba di famiglia quindi insomma si percepisce che Lita sia un personaggio molto importante e che io avrei gestito meglio invece la vediamo poco quando la vediamo capiamo solo sprazzi di tutta la sua complessità e poi fine ok che la Rowling ci ha abituato a tutte ste morti però questa l'ho trovata un po' troppo frettolosa invece secondo me proprio il punto che mi ha svegliata alla fine del film perché ero anche un po' cioè mi giravano veramente parecchio le balle è stata la questione della salita al potere di Grindelwald della riunione al cimitero nell'anfiteatro che è ovviamente un richiamo all'ascesa del nazismo proprio palese e mi è piaciuta davvero tanto anche perché la classica scena dove penso che la Midala avrebbe detto la classica frase è così che muore la democrazia in mezzo a uno sgroscio di applausi cioè io ho pensato quello perché c'è questa riunione tutti che applaudono tutti che ascoltano e c'è il grande uomo che salverà la situazione che raccoglie un po' le esigenze e i desideri di tutti che parla toccando proprio quelle corde di difficoltà infatti è lì che ho apprezzato molto Grindelwald perché se prima ne aveva avuto proprio due sprazzi lì ho visto quello che lo differenzia molto da Voldemort Voldemort incuteva timore e voleva opprimere voleva imporsi chi lo seguiva lo seguiva perché lo temeva tanto che non lo poteva nominare Grindelwald invece parla a allora davvero faccio anche fatica a parlarvene perché le analogie con l'attualità sono troppe e questa cosa mi fa arrabbiare moltissimo perché il nazifascismo non sono saliti al potere con la marcia su Roma o con altri episodi violenti sono saliti al potere lentamente parlando alla rabbia della gente parlando ai loro punti deboli parlando a ciò che da un lato li faceva sentire umiliati colpendo tutte le loro difficoltà andando proprio a toccare le loro corde e dall'altro aizzandoli scatenandoli però con un modo di fare estremamente subdolo mettendosi dalla loro parte mettendosi dalla parte di chi si sentiva oppresso di chi si sentiva in una situazione che lo faceva stare male e affascinandoli con il modo di fare facendosi portavoce di tutte queste loro difficoltà e Grindelwald è esattamente questo perché quello che vediamo è una riunione che per quanto scura e per quanto avrà un risvolto un po' violento in seguito in realtà è quasi silenziosa in punta di piedi e Grindelwald parla a quelle che sono le loro più recondite aspirazioni dandogli la soluzione più facile vi sentite infelici oppressi siete stanchi di nascondervi noi non useremo la violenza noi siamo qua per difendere la libertà la verità e l'amore cioè me le sono segnate proprio queste frasi perché mi sono rimaste in testa è stato bravissimo lì Johnny Depp nel riuscire a diventare affascinante nell'essere questo leader che è chiaramente un richiamo esplicito al nazifascismo e a questo movimento che è proprio una comparazione al nazifascismo e quando dice ci attaccano ci fanno sentire come se fossimo in difetto perché l'unico crimine che commentiamo è quello della ricerca della verità e hanno tante analogie con la nostra attualità che vogliamo vedere non vogliamo vedere come per il nazifascismo ripeto le cose non sono manifeste sono piccole sottili passano per alcune frasi normalizzano alcuni comportamenti addirittura entrano gli auror e lui segnala gli auror e dite in mezzo a noi ci sono gli auror ma non non usate violenza contro di loro non haizzateli anche creando questo clima di tensione perché è così che succede è così che prende il potere il totalitarismo haizza le folle fingendo di mantenersi calmo e anzi crea addirittura dei martiri da poter sfoggiare da poter ovviamente esibire con orgoglio per dire vedete cosa hanno fatto vedete che non siamo noi quelli violenti e infatti conclude tutta questa riunione dicendo solo qui conoscerete la libertà e voi stessi ed è così che li accoglie nel proprio circolo magico perché è un po' quello cioè venite a fare parte di quello che è il mio movimento abbracciate queste idee perché sono le vostre idee proprio le vostre idee non ve le ho mica messe in testa io e però devo dire che come vi dicevo prima nella parte spoiler free ho apprezzato invece Newt da questo punto di vista perché lui all'inizio del video all'inizio del film dice proprio io non voglio scegliere da che parte stare io non sto da nessuna parte io voglio stare con gli animali che secondo me è il classico atteggiamento del dire io non sto da nessuna parte vuol dire che tu hai già scelto da che parte stare io su questo purtroppo delle convinzioni molto radicali perché se tu scegli di non prendere posizione hai già preso una posizione fai già subire a chiunque ti circondi la tua indifferenza di fronte a certe tematiche a chi è oppresso a chi è schiacciato agli ultimi a chi è in difficoltà e invece alla fine ovviamente è costretto un po' da ciò che è appena capitato un po' perché si rende conto e percepisce il pericolo alla fine dicendo ho scelto da che parte stare e ovviamente insomma io l'ho apprezzato questo l'ho apprezzato molto detto ciò secondo me Fantastic Beasts purtroppo è un'operazione che nuovamente mi ha deluso mi ha fatto rivalutare il primo tantissimo rispetto a questi crimini di Grindelwald però rimane un qualcosa che non condivido non mi piace non trovo che nello schermo abbia la sua massima espressione proprio per tutti gli errori che vi ho citato prima e visto che se avete visto questa parte vuol dire che avete visto anche tutto il film io vi attendo giù dai commenti per discutere un po' insieme dei vari aspetti che ho sollevato se li avete visti in questo modo se non li avete visti in questo modo di nuovo vi invito a essere rispettosi mi raccomando io non ho la pretesa di verità questa è solo la mia opinione e il mio punto di vista io sono sensibile a determinate cose meno sensibile ad altre e penso di poter esprimere ovviamente la mia opinione in tutta tranquillità anche perché la mia opinione non significa andare a screditare l'opinione di qualcun altro solo perché è diversa dalla mia e anzi sono ben felice quando si può avere una discussione più che sana quindi insomma ci sentiamo giù nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate voi e niente io direi che per oggi è tutto vado a rimoginare e a rileggere qualcosa tipo l'ordine della fenice va bene ragazzi come sempre spero di avervi tenuto compagnia con i miei sproluocchi lunghissimi e direi che ci vediamo al prossimo video ciao